Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Nella scorsa puntata abbiamo presentato i personaggi da 800 metri. Eh sì! Allora ricordiamoli, Idros, Tifon e Avoc, Croaboc, Palladium e Saburo, e se vi siete persi la scorsa puntata fate un rewind e andate a vederla. E mi raccomando, da adesso in poi non dovete perdere neanche un minuto perché racconteremo sempre un sacco di novità. E a proposito di novità, andiamo a conoscere i Gormiti da 8 cm che ci mancano! Andiamo, andiamo! Ah, eccoli qui Giada! Adesso vi presentiamo la seconda parte degli 8 cm. Abbiamo Zephyr, Koga, Thorac e Achilos. Che noi già conosciamo. Sì! E poi abbiamo Rhodium, del popolo dei Solark e Irgur, del popolo dell'Eclipsion. Che sono delle new entry! Esatto! Ma guardiamo un po' come l'energia alfa ha cambiato i nostri amici! Ma sono diventati davvero bellissimi! Giada! Facciamo un unboxing! Forza! Oh, brava Giada! Guarda che bello che sono! Wow! Non vedo l'ora, allora. Vediamo un po'... Guarda! Eh, a me questo effetto traslucido... È troppo bello questo effetto, anche a me piace tantissimo! Sì, perché guarda, sembra proprio di ghiaccio! È bellissimo! Sembra ghiaccio vero! Sì? Guarda invece Koga, com'è? Mamma mia! Ha cambiato colore di capelli! È vero! Se li hai fatti come te? Ah no, tu non ce li ha di quel colore! No! Ma hai visto che bello? Sembra la mamma mia! È vero! Scotta! 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 Ma invece lui... Ecco, ecco, infatti... Ha davvero paura! Soffermiamoci solo loro due, Giada, che devo raccontare un po' di cosine! Rhodium è un gigante buono, un enorme ed inarrestabile guerriero che ama la natura sopra ogni cosa. Da molti anni medita sull'ordine e sull'equilibrio, vivendo finalmente in pace dopo il suo lunghissimo passato da guerriero. I suoi attacchi sono colpo solare e sguardo folgorante. Tra i caotici Eclipsion, Irgur è il più pazzo di tutti, un folle guerriero che si diverte a giocare con i propri nemici come un gatto con il topo. Il suo corpo è in realtà un costrutto artificiale, un'armatura creata dall'energia del caos che nasconde il vero Irgur. Una folle testa rimbalzante può comandare il corpo a distanza. Scatenando una pioggia di sfere esplosive sui suoi nemici, mentre li osserva da lontano e ride come un pazzo. I suoi attacchi sono Kaboom e Ultra Chaos. Certo che Giada sono davvero fortissimi! Ti hai proprio ragione! E poi devo confessarti una cosa. Che cosa? Irgur è un po' inquietante. Allora, è simpatico, è simpatico. Sì, perché sorridermi. Però è un pochino inquietante perché si stacca la pesta, poi la lancia contro gli avversari. Hai ragione! Facciamola qua. Ma lo sai Gianni che mi è venuta voglia di combattere? Ti vai di fare una sfida? Sì, lo sai che non posso dire di no alle sfide. Perfetto, allora andiamo. Vai. Devo dire che mi sento potentissimo con questa energia alfa io. Anche io mi sento potentissima, quindi vedrai che vincerò. Lo sento. Ma dove? Allora, andiamo avanti. Io scelgo questa. Ah, ok. Io la apro di già. Io prendo questa. Allora, andiamo un po'. Ecco, ecco. Guarda che ho trovato. Oh, quello che fa venire Brick. Sì, proprio quello che mi inculierei. Va bene, va bene, va bene. Prendo anche la sua card così ve lo presento. Io ho trovato Avoc. Io ho trovato Irgur. Ti lancio una testa. Allora. Però sorride, però sorride. Nella card che numero hai trovato? Io ho trovato il numero 7. 7, 7, 7. È forte Irgur, è forte, è forte, è forte. Sotto il piede. Io ho trovato il numero 4. Eh, un po' me l'aspettavo, eh, perché è un cattivello. Io ho trovato il numero 1. Quindi? Ho vinto io? Hai visto che mi sentivo forte per un motivo? Guarda, guarda, di solito dico no, ho perso. Sono contento che hai perso un cattivo, te lo meriti Irgur, te lo meriti. Sì, 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 bravo io. Ma, Gianni, stavo pensando in una cosa. Sì. Il giallo, come il nuovo logo dei Gormiti, è un colore che si abbina perfettamente alla natura. Il giallo? Sì. Ma perché? Ma che senso ha? Eh, perché in che stagione stiamo per entrare adesso? È la primavera. Ah no, aspetta, primavera. È la primavera. È ancora lontana. Eh sì. L'autunno. L'autunno, esatto. E in autunno di che colore sono le foglie? Cioè, il giallo predomina praticamente questa stagione. È vero, è vero. Cadono le foglie, diventano gialle. È vero. Guarda un po'. Lo sai perché in autunno le foglie di molti alberi diventano gialle? In autunno la temperatura diminuisce, come anche l'ore di luce. Questo fa sì che le foglie producano sempre meno clorofilla. A questo punto i pigmenti di carotene riescono ad affiorare, colorando le foglie di sfumature gialle e arancioni. Hai visto? Anche la natura vira al giallo, proprio come la stagione dei Gormiti. È vero. Quindi, bambini, mandateci le vostre foto in una natura gialla. A proposito di foto. È arrivato il momento speciale. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. E sì, Johnny, è arrivato il momento di mostrare le foto e i disegni che ci sono arrivati. Giusto. Oggi ce le ha inviate Matilde. Ok. Ci ha mandato questo disegno. E la foto delle sue creazioni. Suoi capolavori. Ci la crede davvero lei. Vai. E c'è scritto questa eredica. Sentiamo. Buongiorno ragazzi. Avete trascorso bene le vacanze? Sì. Oggi vi ho mandato un bel disegno di Trek e Siran e le faccine dei Lord inventate da me. Eccoli qui. In cui ho aggiunto anche Lord Sol e Lord Eclos. Davvero. Sono davvero contenta della nuova stagione dei Gormiti e del successo che sta avendo insieme al Gormiti Show. Speriamo di incontrarci il più presto possibile. Speriamo. Speriamo davvero. Speriamo davvero. Brava, bravissima. Davvero complimenti. Mi piace davvero tantissimo questo disegno. Brava, brava, brava. Ha fatto delle sfumature davvero belle. Proprio nel dettaglio, brava. Sembrano veri. E questi potrebbero essere dentro di quadretti, potrebbe appenderli, no? Eh sì, sì, è vero. Facci sapere per cosa li hai creati, ecco. Ok. Giada, cosa dobbiamo fare adesso? È finita la puntata. Eh sì, però prima ricordiamo i nostri amici che se vogliono mandarci dei disegni, delle foto, anche delle dediche, dovete inviarle a gormitishow.gormiti.com e noi le mostriamo. Esatto, esatto, esatto. Ora è il momento di salutarvi. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci su nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. Ma tantissimi. Ma tantissimi, eh. Un saluto da Gianni. E già da ciao. 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 Ciao.